Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qua Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qua Sono scomoda Ciao amici del web, sono tornata oggi di nuovo, ovviamente sul mio canale dove sono con un nuovo video perché questo è un video, ma oggi parliamo finalmente Sono scomoda Ciao amici del web, sono tornata oggi di nuovo, ovviamente sul mio canale dove sono con un nuovo video perché questo è un video, ma oggi parliamo finalmente Ciao amici, allora se vedete i capelli tipo in questo modo è perché sono Ciao amici, allora se vedete i capelli tipo in questo modo è perché sono Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo video parola Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo video parola Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ciao amici del web, sì, sono tornata oggi di nuovo Ciao amici del web, sì, sono tornata oggi di nuovo Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qua Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, allora Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Allora Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Allora